una brevissima introduzione per la clip corrispondente a questa puntata 22 anche perché poi saranno proprio gli intervistati a spiegare molto bene solo una data 15 di settembre la diciannovesima edizione della 2 per bene in quel di longiano provincia di forlicesena e la sera prima nel teatro di longiano il 14 quindi le premiazioni a due grandi campioni del passato non devo aggiungere altro vediamo il servizio con immagini domande e naturalmente relative risposte l'impressione ciò che si percepisce che ogni anno crescendo la manifestazione riesca ad aggiungere qualcosa a diventare sempre più attrattiva e a comunicarsi anche sempre meglio sì è così siamo al diciannovesimo anno un anno di trade union fra la maggior età raggiunta lo scorso anno e il ventesimo i quattro lustri che celeberemo l'anno prossimo sicuramente è una manifestazione di nicchia ma ogni anno incrementa l'interesse la notorietà proprio per lo spirito che la sostiene abbiamo tre colonne portanti che sono lo sport il ciclismo uno sport umile duro che però piace alla gente nel caso di specie lui e lei a cronometro che è una cosa molto particolare oltre ai diversamente abili e i grandi nomi del ciclismo di ieri di oggi poi abbiamo il volontariato qui abbiamo uno zoccolo di 60 100 volontari rarissimo da trovare i quali sono proprio convinte di loro operare perché alla fine tutto va in solidarietà e in questi 19 anni possiamo vantarci di aver attribuito a realtà bisognose italiane e estere circa 200 mila euro lo sforzo è notevole stiamo già lavorando da mesi però queste caratteristiche sono vincenti quindi ogni anno si incrementa e ogni anno apportiamo qualche novità qualche caratteristica che la caratterizza appunto come un'edizione nuova e proiettata verso il futuro Possiamo quindi affermare che la 2 per bene è un fiore all'occhiello nel mondo del ciclismo e non solo della Romagna tutta? Ma io mi auguro di sì, abbiamo riscontri a livello nazionale e internazionale abbiamo avuto concorrenti venuti da più parti del mondo e quindi siamo qui stasera proprio per dare un ulteriore impulso a questo evento che da lustro all'ongiano ma alla Romagna e al ciclismo in particolare degli abili, diversamente abili, dei campioni e dei non campioni La 2 per bene è un evento importante, un evento unico, un fine nobile quindi meno male che ci sono gli affezionati ma noi contiamo di portare nuove persone perché è un messaggio completamente diverso da quello che conosciamo solitamente quindi auspichiamo che la partecipazione cresca L'impegno di Axi ciclismo anche cresce in tutta Italia le manifestazioni sembrano aumentare, confermarsi, rinforzarsi, molto coinvolgente, un grande lavoro Ma ci diamo da fare da un po' di anni, il merito è delle persone che sono sui territori cerchiamo di fare il nostro meglio, crediamo molto nella bicicletta proprio noi siamo un ente di promozione quindi crediamo nella promozione sociale dell'utilizzo della bicicletta questa manifestazione direi che può essere l'emblema e quindi a maggior ragione siamo qua e crediamo molto in questa come in tante altre manifestazioni che portiamo avanti Credo che la Due per Bene e la Fausto Coppi costituiscono una bella torcia che illumina la Romagna in tutto il mondo La sfida è nel far arrivare sulle strade anche delle storie che uniscano alla forza della località, del territorio anche il piacere delle storie portate da fuori Per esempio noi oggi sentiremo una storia che arriva da Israele una coppia di ciclisti impegnati in una manifestazione lui maschile, tra l'altro è stato un ciclista che ha fatto il Giro d'Italia nel 2018 e lei nella competizione femminile e c'è un momento di questa corsa in cui lui supera lei e le dà un bacio Francesca e Paolo Francesca in modo particolare viene dalla famiglia di Polenta ed è bello sapere che ci sono nelle gare queste storie d'amore come quelle che hanno arricchito il quinto canto della Divina Commedia ed è anche splendido vedere che Roberto Landi quando gli ho segnalato questa storia ha reagito invitando la coppia dei baciatori La Due per Bene è una manifestazione di nicchia qui di Longiano che cercheremo di spingere ancora ulteriormente e di migliorare Le novità saranno un ricco pacco gara che ci sarà quest'anno con una maglia particolare che poi vi faremo vedere, ancora non ce l'abbiamo ma l'importante diciamo che veramente qui è partecipare perché significa aiutare quattro realtà della zona la Caritas di Longiano, la comunità Papa Giovanni XXIII di Balignano la casa famiglia di Santa Paola e la nuova famiglia di Cesenatico proprio per fare del bene tutti contro il tempo per fare del bene a queste quattro associazioni di cui hanno tanto bisogno e fanno del bene a dei ragazzi e delle ragazze del territorio e anche fuori del territorio noi spesso ci ritroviamo all'interno di queste comunità per vedere cosa fanno e cosa non fanno sono veramente toccanti le storie che raccontano i ragazzi soprattutto la comunità Papa Giovanni XXIII mi colpisce sempre quando vado perché ci sono dei ragazzi che provengono da situazioni molto complicate droga, ludopatia che è l'ultima piaga di questo mondo e veramente sono toccanti perché lasciano famiglia, lavoro, amici, tutto e si devono reinventare, devono rientrare in questa società e chi è lì, gli educatori, insomma chi li segue, i tutor sono veramente fantastici a fare questo e poi anche la forza di volontà comunque di queste persone a voler rientrare in careggiata a pedalare sulla strada giusta grazie